Allora, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, io sono Michela Marzano, sto registrando questa piccola discussione, c'è chi la chiama conferenza, questo condensato da Parigi dove sto vivendo l'isolamento come tutti voi qui con mio marito, cercando di portare avanti anche una continuità didattica con i miei studenti e sono molto contenta che il Circolo dei lettori di Torino mi abbia coinvolto in questa bellissima impresa, siamo tutti maturandi, chiedendomi di fare una piccola lezione di filosofia e io ho deciso di trattare oggi un tema che mi è molto caro, un tema su cui ho lavorato parecchio e un tema credo oggi di grande attualità, ossia il tema della fiducia. Che cos'è la fiducia? Come ne possiamo parlare anche oggi che attraversiamo un momento di grande sfiducia, di grande scoraggiamento e di grande paura? Ecco, il tema della fiducia è complesso perché di per sé la fiducia è un concetto paradossale, perché da un lato è un concetto fondamentale e fondamentale perché senza fiducia non ci sarebbe vivere insieme, non ci sarebbe vita sociale. Senza fiducia io avrei anche difficoltà ad alzarmi la mattina dal letto, a prepararmi un caffè, a uscire di casa, certo qualcuno starà pensando ma noi non possiamo uscire di casa in questo momento, è vero. Abbiamo delle regole, dobbiamo seguire, dobbiamo proteggere gli altri, ma anche per questo ci vuole fiducia, fidarci di quello che ci viene chiesto, fidarci del parere degli esperti, continuare a salvaguardare il legame sociale avendo fiducia anche se momentaneamente separati. Quindi dicevo il concetto di fiducia è fondamentale, ne abbiamo bisogno sempre, altrimenti tutto si sbriciolerebbe, non si rispetterebbero le regole, per esempio si uscirebbe in strada, non si rispetterebbe l'isolamento, non si proteggerebbero le persone fragili e così via. Certo sono esempi che do oggi, parlandone in un altro momento avrei detto senza fiducia non si riuscirebbe a salire su una metropolitana perché si avrebbe paura che la metropolitana non sarebbe in grado di portarci là dove pensiamo di andare e così via, gli esempi sono diversi a seconda delle situazioni, ma la fiducia è fondamentale, senza fiducia non ci si muove, si è paralizzati, si è bloccati. Al tempo stesso però la fiducia è anche qualcosa di estremamente fragile e perché fragile? Perché nel momento in cui si ha fiducia, nel momento in cui si dà fiducia ci si apre alla possibilità del tradimento, se io mi fido di te ti do la possibilità di tradirmi, d'altronde chi è che tradisce? Tradisce sempre e solo chi riceve la nostra fiducia, se io non ho fiducia in una persona questa persona non mi può tradire, al limite mi può deludere, ma il tradimento sorge sempre all'interno di un legame, di un rapporto di fiducia, per cui dicevo fiducia fondamentale ma anche estremamente fragile, quindi un paradosso. E come reagire allora di fronte a questo paradosso? Come possiamo definire la fiducia? Come possiamo definire la fiducia oggi? Che tante certezze si stanno sbriciolando? Come si fa a ricostruirla quando è venuta meno? Si può semplicemente decretare e dire bisogna che la fiducia torni? Oppure c'è tutto un lavoro progressivo, difficile da portare avanti perché la fiducia torni nel momento in cui siamo tutti sfiduciati? E poi si può avere fiducia senza averla ricevuta, cioè senza che qualcuno abbia creduto in noi. Possiamo noi credere in qualcun altro, aver fiducia in qualcun altro, se nessuno ha mai creduto in noi e ha mai avuto fiducia in noi. Ecco, queste sono un po' le domande a cui mi piacerebbe cercare velocemente oggi di dare qualche risposta. E per poter dare qualche risposta io vorrei partire oggi dalla citazione di un filosofo e sociologo contemporaneo che si chiama Georg Simmel, il quale in un testo che lui scrisse nel 1908 in tedesco e che poi è stato tradotto in italiano soltanto nel 1988 col titolo Sociologia, indagine sulle forme di associazione, dà quella che secondo me è la definizione più bella in assoluto della fiducia. Sta parlando della fiducia e dice, cito, si crede in una persona senza che questa fiducia sia giustificata dal fatto che la persona in questione ne sia degna, talvolta anche senza alcuna prova della sua affidabilità. Allora, che cosa ci sta dicendo Simmel? Torniamo un attimo indietro sui termini. Si crede in una persona. I termini utilizzati sono interessantissimi perché il linguaggio permette di definire anche i contorni della nozione che ci interessa. Sta parlando della fiducia e parla di credere, che in genere è un termine che si utilizza quando si parla della fede. Ecco, per aver fiducia si crede in una persona. E quando è che si crede in questa persona, quando questa persona è affidabile, no. Al contrario, si crede in una persona anche se questa persona fino a quel momento non ci ha dato prove di essere degna della fiducia che le stiamo dando. Si crede in una persona anche se la persona non è affidabile, anche se non abbiamo prova della sua affidabilità e Simmel va ancora più lontano. Si crede in una persona talvolta anche quando la prova che noi abbiamo è la prova contraria, cioè la prova dell'inaffidabilità di questa persona. Quindi una fiducia che non dipende dall'affidabilità. Noi per secoli abbiamo detto, abbiamo ripetuto, abbiamo teorizzato che la fiducia era il risultato dell'affidabilità. Io ho fiducia in te se tu ti mostri affidabile. Ecco, Simmel ci sta dicendo qualcosa di completamente diverso. Si crede in qualcuno in assenza della prova della sua affidabilità. E mi sembra questa una lezione particolarmente importante oggi, anche semplicemente perché di certezze non ce ne sono. Ci sono poche certezze, ma noi dobbiamo continuare a aver fiducia. Dobbiamo continuare a credere. Ecco, Simmel sta parlando della fiducia in una persona, ma anche per quanto riguarda il futuro. Dobbiamo credere nel futuro anche se non abbiamo prove dell'affidabilità dei giorni futuri, anche se non sappiamo di cosa il futuro sarà fatto. C'è quindi un parallelo certo che Simmel fa tra fiducia e fede, anche se i due concetti non concidono, perché dietro la fiducia c'è una forma di irrazionalità. In fondo noi scommettiamo su qualcuno. Anche la questione della scommessa a cos'è che ci fa pensare? Io sono sicura che nel momento in cui io ho citato il termine scommessa, molti di voi hanno pensato a Pasquale, alla fede, alla sua scommessa. Per Pasquale la fede è una scommessa. Ebbene, una scommessa per Simmel o è anche la fiducia. Noi dobbiamo scommettere, dobbiamo dar fiducia e nel momento in cui scommettiamo e diamo fiducia in realtà saltiamo nel buio, perché non siamo assicurati, non sappiamo che cosa gli altri faranno di questa fiducia, non sappiamo di cosa il futuro è fatto, quindi c'è un salto nel buio. D'altronde quando si parla di fiducia la cosa interessante è che anche se in italiano, ma lo stesso vale anche per il francese, abbiamo una sola parola per dire fiducia, fiducia, esattamente come in francese si parla di confiance, ebbene il termine fiducia, la fiducia per esempio in inglese si dice in due maniere diverse, abbiamo due termini, abbiamo il termine reliability e abbiamo il termine trust, che permettono di mettere insieme parecchie cose che noi magari con un solo termine fiducia o confianza non vediamo. Allora, reliability. Reliability a cosa rimanda? A cosa rinvia? Rinvia al fatto che noi possiamo fare affidamento, possiamo contare su qualcuno quando questa persona ha una serie di competenze. Chi è reliable? Per esempio è reliable un operario, un operario, noi abbiamo bisogno di fare una riparazione a casa, abbiamo bisogno che qualcuno venga a riparare l'impianto elettrico oppure l'impianto idraulico e possiamo fidarci di chi si è mostrato già reliable. Noi non possiamo scommettere in questo caso, perché se scommettiamo in realtà rischiamo di ritrovarci poi in una situazione pericolosa. Dobbiamo fidarci da un punto di vista tecnico, perché è una fiducia tecnica, per esempio in questo momento degli esperti, di chi per esempio si occupa di virologia o di epidemiologia e quindi ha un quadro chiaro della situazione, mostra di avere delle competenze e noi ci possiamo affidare al suo sapere, alle sue competenze. E questo è un tipo di fiducia, la reliability, che però non esaurisce, anzi ci dice poco di questa fiducia interessante di cui invece abbiamo bisogno oggi e che ci viene anticipata da Simmel, che si dice in inglese in un altro modo, trust, che è quando io scommetto su, quando io mi fido anche se, anche se non ho le prove, anche se non conosco. E' quel tipo di fiducia per esempio che si può avere nelle relazioni amorose, il mio marito si chiama Jacques, è un esempio, è una delle persone meno affidabili che io conosca sulle questioni tecniche, io dico sempre che è non reliable. Quando io ero spesso in viaggio avevo bisogno di lasciargli una lista di cose, perché se mi affidavo semplicemente al suo buonsenso, tornavo a casa, non so, dopo una settimana passata a viaggiare in Italia e trovavo il frigo vuoto. Ecco, è un esempio banale, ma che ci permette di capire che c'è una differenza tra reliability, che è certo importante, e trust, perché poi Jacques, che è unreliable, nonostante tutto è una delle persone in cui io ho assolutamente fiducia, ho scommesso su di lui, nonostante non lo conoscessi all'inizio, e poi pian piano ho scoperto che è l'unica persona, forse, che mi riconosce esattamente per quella che sono, quindi una persona in cui io ho un'enorme fiducia, ho scommesso e questa scommessa ha creato il legame, perché questa è la dimensione interessante della fiducia scommessa di cui ci parla Simmel, ossia la produttività. Se io ti do fiducia, se io ho fiducia in te, se io scommetto in te, se io ho trust, che cos'è che accade? Io ti incito a mostrarti degno di questa fiducia, di questa mia scommessa. C'è un esempio letterario molto bello, Victor Hugo, i miserabili. C'è quella scena bellissima in cui Jean Varjean, che è evaso di prigione, è stato accolto a casa del vescovo. Che cosa fa Jean Varjean una volta che viene accolto a casa del vescovo? La prima cosa che fa? Ruba l'argenteria e fugge. Viene poi immediatamente bloccato da un gendarme che convoca il vescovo e chiede al vescovo che cosa sia successo. Chiede, è vero che queste posate d'argento, questi candelabri d'argento sono stati da lei regalati a Jean Varjean come lui pretende oppure questo ladro li ha semplicemente presi. E lì la scommessa del vescovo, il vescovo che risponde sono io che ho regalato l'argenteria a Jean Varjean e poi indirizzandosi a Jean Varjean vai e fai un utilizzo, utilizza questa argenteria per mostrarti all'altezza della mia fiducia ed è quello che farà per tutto il resto della propria esistenza Jean Varjean, si mostrerà all'altezza di questa fiducia, la fiducia ricevuta. Lui che non aveva mai avuto fiducia da nessuno che era cresciuto senza che nessuno credesse in lui, incontra il vescovo che crede in lui, gli dà fiducia e a quel punto produce poi affidabilità. Quindi c'è un'inversione di paradigma, dicevo prima non è l'affidabilità che crea la fiducia ma la fiducia che produce una forma di affidabilità, la fiducia come produttiva. Dicevo però all'inizio di questo breve intervento, di questa breve lezione, che la fiducia è anche rischiosa. La fiducia non è la fede, per un credente c'è una scommessa certo, ma per un credente non ci sarà mai una forma di tradimento. Siamo sempre noi che tradiamo Dio, se noi leggiamo la Bibbia, è sempre il popolo di Israele che tradisce il Signore, non è mai il Signore che lo tradisce. Per un credente la fiducia può essere totale in Dio perché Dio onnipotente non tradisce mai, per un credente. La fiducia riguarda le relazioni umane, se noi abbiamo fiducia al 100% rischiamo di essere traditi perché nessuno è al 100% affidabile. Ci sono degli scritti molto belli di alcuni psicanalisti che mostrano che chi si presenta come affidabile al 100% sta già tradendo, non solo l'altro ma anche se stesso perché ognuno di noi è caratterizzato da una dimensione di desiderio che sfugge, ognuno di noi può cadere in tentazione, ognuno di noi può sbagliare e questo fa parte della vulnerabilità umana, questo fa parte della fintezza della condizione umana. Ecco perché fiducia e fede non coincidono. La fede per un credente è una forma di fiducia al 100% in Dio che è onnipotente. La fiducia è una scommessa certo, è una scommessa che può indurre l'altro a voler essere all'altezza di questa fiducia ma può anche essere tradita, noi possiamo anche essere traditi e quindi la fiducia svela questa dimensione di dipendenza che caratterizza le nostre relazioni. Quando io ho una fiducia in una persona dipendo dal suo benvolere, dipendo da ciò che l'altro sarà in grado o avrà voglia di fare della fiducia che io gli dono. La fiducia è un dono, ecco perché ci ritroviamo all'interno di una relazione in cui viene fuori una forma di dipendenza, come l'amore d'altronde, che è un dono. Quando io amo una persona io dipendo dal benvolere di questa persona, dipendo da questa persona, anche se non è mai la dipendenza che noi viviamo nelle relazioni di fiducia o nelle relazioni d'amore, una dipendenza totale, anzi la dipendenza va sempre di pari passo con l'autonomia. Io dipendo da te ma posso dipendere da te anche perché ho in me la capacità di tenermi su, ho una forma di autonomia. Ci sono delle lettere bellissime che Anna Arendt scambia col proprio marito, Blushner, e dice e scrive, io che ho sempre cercato di essere autonoma, ho capito il significato dell'autonomia solo quando mi sono resa conto di dipendere da te. Ecco la dimensione della dipendenza che caratterizza le relazioni umane, che caratterizza le relazioni d'amore e le relazioni di fiducia. Quando io ho fiducia, quando io do fiducia, dipendo dal tuo benvolere, quindi sono anche fragile. E questo mi porta ad affrontare forse l'ultimo, molto velocemente, l'ultimo tema che è legato a questa questione della fiducia, ossia le condizioni che ci permettono di aver fiducia. Vi ricordate all'inizio quando cercavo di dire che cos'è la fiducia, come la si può creare, su cosa ci possiamo basare, avevo terminato dicendo possiamo aver fiducia in una persona se nessuno ha mai creduto in noi. E quindi è questo l'ultimo elemento che vorrei affrontare. Se nessuno ha mai creduto in noi, noi forse non possiamo aver fiducia negli altri, perché la capacità di tenerci su, la capacità di sopravvivere al tradimento eventuale è la condizione sine qua non della nostra capacità o della nostra possibilità di aver fiducia. Per dirlo in altri termini, a condizione di cosa io posso dar fiducia e quindi rischiare anche il tradimento eventuale. Ecco, la condizione necessaria per poter avere fiducia è un minimo di fiducia in noi stessi. Laddove per fiducia in noi stessi naturalmente non intendo il fatto come talvolta si sente dire io ho fiducia in me stesso e quindi non ho bisogno di dipendere degli altri e quindi non do la mia fiducia agli altri. No, la fiducia in noi stessi di cui parlo e che è la condizione sine qua non per poter poi dare fiducia agli altri è la consapevolezza del proprio valore. Ora noi sappiamo tutti, almeno da un punto di vista teorico, ce l'ha spiegato Kant, che la caratteristica di ogni persona è la dignità. Noi per definizione in quanto persone abbiamo un valore in noi, abbiamo un valore intrinseco a cui poi diamo il nome di dignità e questo è un postulato, un postulato metafisico. Quando io però parlo della consapevolezza del nostro valore mi sposto dal piano metafisico al piano museologico. Noi dobbiamo poter avere accesso alla consapevolezza del nostro valore e per poter avere accesso alla consapevolezza del nostro valore abbiamo bisogno che qualcuno ce l'abbia mostrato, qualcuno ce l'abbia comunicato, qualcuno ce l'abbia fatto sentire, sentire il nostro valore perché gli altri ce lo hanno comunicato. Ecco perché la relazione è fondamentale, la dimensione relazionale che caratterizza la fiducia la caratterizza sin dall'inizio. Abbiamo bisogno che qualcuno abbia creduto in noi per poter credere in noi stessi e per poter a quel punto credere negli altri rischiando anche al limite il tradimento. Io vorrei concludere a questo punto questa brevissima lezione leggendovi un estratto di un mio vecchio libro, quando dico vecchio libro è perché è stato pubblicato ormai una decina di anni fa e che si intitola Volevo essere una farfalla in cui io ripercorro quella crisi profonda che è stata la mia per tanto tempo, forse perché non riuscivo a credere in me stessa e per tanto tempo mi sono chiusa all'interno di un universo caratterizzato da un sintomo che è quello dei disturbi del comportamento alimentare, anche sulla base di una difficile relazione con la mia famiglia, forse perché non mi sono sentita riconosciuta per quello che ero, ma poco importa. Io vorrei terminare con questo messaggio per dirvi che anche quando si sono avute delle difficoltà e dobbiamo riprenderci in mano c'è la possibilità di farlo, quindi c'è la possibilità di ricominciare a credere in noi e quindi di credere negli altri e dar loro fiducia. E termino con questa breve citazione. I momenti di disperazione sono stati quelli in cui il mio io più profondo e autentico non ce la faceva più a forza di farsi strangolare dal dovere. Sono stati momenti di dubbio e di paura e se la vita fosse altro e se io fossi diversa da quello che sono sempre stata. Solo che l'altro che mi portavo dentro era un altro che pensavo di non avere il diritto di esprimere perché esserlo e esprimerlo significava rinunciare ad essere quello per cui ero stata programmata. Per anni la mia vita è stata una corsa disperata e folle verso la riuscita, riuscire a fare tutto quello che dovevo, una cosa dopo l'altra, un esame dopo l'altro, un concorso dopo l'altro, un libro dopo l'altro. Anche quando non avevo voglia, anche quando non ne potevo veramente più, perché è solo così poi che mi sarei sentita a posto con la mia coscienza. La trappola infernale nella quale mi sono ritrovata per tanti anni è stata questa, credere che non avessi il diritto di essere altro, essere convinta che desiderare fosse una colpa, continuare nonostante tutto a dare ragione a mio padre al punto di preferire l'idea di morire piuttosto che deluderlo. Ci ho messo degli anni prima di capire che disubbedire a mio padre non significava tradirlo e che potevo disubbedire senza diventare subito cattiva. Ci ho messo degli anni per non essere più prigioniera di quel corto circuito affettivo, perché quando ero bambina ero stata io a essere tradita tutte le volte che non avevo potuto dire l'ansia e la paura, tutte le volte che mi ero adattata per non disturbare.